sarei. Non so di cosa si sia ornata mia madre quel giorno. Lo sguardo di un uomo si posò su di lei e sui suoi vestiti alla moda, ma giunge il tempo di un'età che già conosce la dura fatica e l'emigrazione e il filatoio e compagne italiane. Volontà vinse timidezza, oltrepassò il confine, seppe trovare la strada, secorecando speranza. Laustin Rossa cantava le canzoni di un'epoca, anni sessanta. Tutto comincia da un innamoramento e dal desiderio di una casa, il pilota, il filosofo e mio nonno ancora sulla soglia della vita. Io sarei o non sarei, di fatto sono, e nell'immensità di questo celestiale, antico, azzurro pensiero, mi perdo.